A voi tutti cari amici di Rete7 sarà un fine settimana inizialmente un po' più movimentato e guardate infatti una mattinata caratterizzata da tempo instabile soprattutto però sulla Lombardia nel pomeriggio l'instabilità si accenderà anche sul Piemonte e sulla Liguria e ancora rovesci di piogge temporali che insisteranno proprio sulla Lombardia verso sera cosa accadrà tenderà a migliorare a partire dai settori più occidentali del Piemonte sulla Val d'Aosta, sulla Liguria, ancora sulla parte più orientale del Piemonte e sulla Lombardia ci sarà spazio per della instabilità come al solito rovesci di piogge temporali minime tra i 17 e i 20 gradi, 21 e i 22 gradi invece lungo le coste temperature massime comprese tra i 24 e i 30 gradi centigradi quindi una piccola flessione ci sarà per il momento è tutto, buon inizio di fine settimana, arrivederci